Un saluto a tutti i sordi italiani. In qualità di responsabile dell'area TIAC, acronimo che sta per Tecnologie, Innovazione, Accessibilità e Comunicazione, sono molto orgoglioso di dirvi che oggi è una giornata veramente importante, perché finalmente è stato pubblicato il nuovo sito dell'ENS, che sostituisce quello precedente. La creazione del nuovo sito ha comportato quasi un anno di lavoro, un lavoro di gruppo coordinato sempre dall'area TIAC. Sono orgoglioso e soddisfatto del lavoro di tutto il gruppo, che si è impegnato duramente per portare a casa un ottimo risultato. L'obiettivo principale era creare un sito completo di informazioni e che rispettasse i requisiti dell'accessibilità. L'accessibilità non è solamente una questione tecnica, ma è un diritto di tutte le persone sorde e precondizione di altri diritti, come la piena autonomia nel ricercare le informazioni, che comportano un miglioramento della vita quotidiana, la possibilità di comunicare e la garanzia di avere informazioni complete e corrette, tutto grazie all'accessibilità. Per il nuovo sito, con il gruppo di lavoro TIAC, abbiamo cercato di sviluppare una veste grafica che rispondesse ai bisogni specifici delle persone con disabilità sensoriale, uditiva e visiva, e di migliorare l'user experience creando un'interfaccia che fosse accessibile e pienamente soddisfacente per tutte le persone. Continueremo a lavorare sempre nell'ottica di raggiungere la piena autonomia di ogni persona. Vorrei aggiungere anche che abbiamo seguito le indicazioni della direttiva europea numero 882 del 2019, che contiene i requisiti dell'accessibilità per siti web a cui noi ci conformiamo così da rendere accessibili a tutti le informazioni che diffondiamo. Il nuovo sito dell'ENS è ricco di dettagli, ve ne racconto alcuni. Il sito web è pienamente accessibile. Su ogni pagina trovate l'icona accessibilità. Cliccandola si apre un menu a tendina grazie al quale ogni persona potrà adattare l'interfaccia in base ai propri bisogni specifici. Ogni comunicazione, notizia, messaggi del presidente o dei dirigenti, sarà pienamente accessibile. Grazie a Videoliss con sottotitoli e voce. Con il nuovo sito vogliamo anche dare una dimostrazione pratica che è possibile creare un sito web completamente bilingue. Ovviamente è un lavoro in continuo aggiornamento. Per ulteriori dettagli e spiegazioni vi rimando al video qui sotto. Vi daremo notizia di qualunque aggiornamento. Vorrei inoltre aggiungere che il sito ha potenziato il proprio motore di ricerca. È possibile ad esempio cercare una notizia digitando una parola o attraverso tag e categorie, ossia per argomento. Quindi digitando una parola compaiono in automatico una serie di risultati, testi e video. Con questo sito vogliamo dare l'opportunità alle persone sorde, alle loro famiglie, a genitori udenti con figli sordi che hanno spesso difficoltà nel reperire informazioni, di essere informati in maniera agevole e completa sulle attività dell'ENS, su notizie e informazioni utili. Il nuovo sito ci offre anche l'opportunità di far vedere alle autorità governative, alle pubbliche amministrazioni, alle istituzioni, che è possibile seguire i requisiti sull'accessibilità imposti dalla comunità europea e noi possiamo essere ad esempio. Nel nuovo sito ENS inoltre trovate facili collegamenti diretti alle piattaforme di pubblica utilità, 112 sordi per le emergenze e il comunica ENS e allo sportello telematico, una pagina che raccoglie link più utili all'interno del sito. Dal tesseramento alla legislazione sulla sordità fino alla scuola e quant'altro. Sito che è comunque in costante aggiornamento perché il nostro obiettivo è dare un'informazione completa e continua alle persone sorde, alle famiglie, a chi ha difficoltà uditive. Credo di avervi detto tutto. Se avete piacere potete navigare nel nuovo sito in cui è già pronto un form dove potete mandarci consigli e suggerimenti su come migliorare e rendere il sito rispondente alle esigenze di tutti. Siamo davvero aperti alle vostre opinioni, ascoltiamo i vostri suggerimenti e lavoreremo concretamente sulle vostre proposte. La vostra opinione è molto importante per noi e per la comunità. Il sito apre oggi, in futuro ci saranno degli aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati. seguiteci sul nuovo sito. Auguro a tutti una buona navigazione. Aspettiamo le vostre segnalazioni. Siamo felici di condividere questo percorso di accessibilità con tutte le persone sorde d'Italia. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti.